Partito ufficialmente oggi qui presso il palazzo dell'emiciclo dell'Aquila, l'undicesima legislatura d'Abruzzo, la prima guidata dal presidente Marco Marsilio, ma il ponte all'ordine del giorno oggi era l'elezione del presidente del Consiglio regionale. Infatti è stato eletto Lorenzo Sospiri in prima votazione con 26 voti favorevoli su 31 votanti, 5 sono state le schede bianche. Gli altri due punti all'ordine del giorno sono state le elezioni dei vice presidenti del Consiglio regionale e dei consiglieri segretario del Regione Abruzzo. Sono stati eletti per la maggioranza Sant'Angelo di Azione Politica e per l'opposizione Domenico Pettinari. Invece come consiglieri dei segretari del Consiglio regionale eletti Bocchino per la maggioranza della Lega e Dino Pepe dell'opposizione del PD. Intanto congratulazioni al nuovo presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri. Si aspettava una votazione alla prima, subito, questa prima votazione di essere eletto o vi aspettavate una seconda turnazione? Lo speravo perché io sono stato un oppositore molto duro ma leale. Oggi si votava la guida del Consiglio regionale e credo che le opposizioni tra il voto assegnatomi e il voto di astenzione abbiano voluto investire su una guida dell'aula che fosse imparziale e così sarà. Ormai un decano di questo Consiglio regionale però ha un ruolo importante e emozionato? Certamente emozionato come potrei non esserlo. Noi siamo qui per cambiare il passo di questo Consiglio regionale. Abbiamo temi fondamentali da portare in aula. La regione Abruzzo non è un comune, vive delle leggi che approva e i cittadini hanno benefici o meno dalle leggi che vengono approvate. Da quante ne vengono approvate e da come vengono approvate. Il mio compito è garantire poche leggi, buone leggi, approvate velocemente e nell'interesse di tutti. Il Presidente del Consiglio regionale è una figura super partes però bisogna lavorare per il bene della regione. Abruzzo ha dato delle linee guida a quelle che sono ricostruzione, sanità e lavoro. Il Presidente del Consiglio regionale è una guida certamente super partes nel rispetto delle regole e delle prerogative che però ha sia l'opposizione che la maggioranza. Così come non permetterò a nessuno di prevaricare il loro dell'opposizione, nessuno potrà prevaricare la possibilità di Marco Marsiglio di governare questa regione. Sull'equilibrio di questi due concetti si realizzerà la possibilità di portare a casa tanti risultati necessari a questa regione, tra cui come lei ha ricordato il lavoro e una sanità più efficiente, più vicina ai bisogni della gente. Tra poco ricorderà il giorno dei dieci anni del terremoto dell'Aquila. Se stati fermi per molto tempo bisogna ricostruire. I terremoti purtroppo sono due, quello drammatico dell'Aquila ma anche l'altrettanto del 2017 con tutta la parte teramana e anche in parte aquilana colpita per quanto riguarda la nostra regione. Sono due ferite ancora sanguinanti, più o meno lacerate. Certamente è tempo di chiudere l'emorragia di cittadini e anche di fiducia che si ha nei confronti delle istituzioni. Dal capogruppo della Lega, Pietro Quaresimale, ex sindaco di Campli, che doveva essere uno dei papabili assessori, così non è stato, è divenuto il capogruppo della Lega soddisfatto e andiamo a sentire anche le sue parole. Si parte con questa nuova legislatura, io sono capogruppo della Lega, del partito maggioritario, sicuramente un ruolo importante di prestigio ma anche molto impegnativo perché bisogna coordinare i lavori del Consiglio con quelli della Giunta, tra l'altro siamo dieci consiglieri. Abbiamo scelto di indicare, quindi è stato eletto il Presidente Lorenzo Spiri, a cui faccio gli auguri a nome del gruppo della Lega, dell'intera maggioranza, una persona sicuramente qualificata che ha avuto già un'esperienza in Consiglio regionale e quindi abbiamo ritenuto che sia stata la persona idonea per gestire il Consiglio regionale. Subito dopo il messaggio di Lorenzo Sospiri ci sono state le parole di Marco Massiglio che ha delineato i punti importanti dei cinque anni che saranno questi del Consiglio regionale, punti importanti che andiamo a sentire in un passaggio del suo discorso. Oggi con l'insediamento del Consiglio regionale e l'inizio della nuova legislatura auspico l'avvio di una nuova fase in cui le contrapposizioni pregiudiziali e fin anche le diverse appartenenze politiche sappiano all'occorrenza fare un passo indietro quando saranno in gioco provvedimenti determinanti per il futuro della Regione. Penso che l'elezione in maniera così ampia, civile, rispettosa dei ruoli e delle funzioni e dei pesi elettorali avuta con l'elezione dell'Ufficio di Presidenza sia un primo passo verso questo clima di relazioni civili improntate al rispetto reciproco e al rispetto poi ognuno delle proprie funzioni che deve svolgere all'interno di quest'Aula. Perché se molto ci divide ricordiamoci che nel contempo molto ci unisce a partire dal primo ineludibile obiettivo, recuperare la fiducia dei tanti abruzzesi che anche stavolta non sono andati a votare e la dignità dell'impegno politico che è un'unica unità di calcolo, la concretezza e la serietà dell'impegno che ci mettiamo. Il nostro metodo di lavoro sarà improntato alla partecipazione, incentrato sul dialogo con l'ampio coinvolgimento del ricco articolato sociale e regionale, delle forze politiche e sindacali le organizzazioni di categoria, passando per la valorizzazione delle competenze dei sindaci e dei rappresentanti degli enti locali e delle province. Sono quattro i pilastri su cui intendiamo erigere la nostra idea di Abruzzo modernizzazione delle infrastrutture, difesa del territorio, valorizzazione dei nostri prodotti e garanzia del benessere delle persone. Chi non ha gradito proprio in pieno il messaggio del Presidente Marsilio è stato Silvio Paolucci che ha ritenuto il discorso appunto del Presidente della Regione Abruzzo privo di contenuti. Andiamo a sentire appunto Silvio Paolucci. Ma il punto vero a mio avviso di questo discorso è che è difficile poter ad esempio rendere conto, chiedere di rendere conto a distanza di 100 giorni. Di solito una prima valutazione, come è corretto che sia, avviene ai 100 giorni, dall'insediamento della Giunta regionale. Io ho trovato il discorso un elenco sostanzialmente di titoli e di principi difficilmente giudicabile allo Stato dell'arte. Però per quanto mi riguarda la valutazione non è positiva proprio in questo. Perché io avrei avuto bisogno, anche come consigliere regionale, e credo come gruppo politico del Partito Democratico, di quali fossero gli indirizzi strategici, di quale visione davvero si avesse di questa Regione e di quali i primi provvedimenti sui quali chiedere un giudizio all'elettorato ai 100 giorni. L'apertura invece c'è stata da parte dei 5 Stelle con Sara Marcozzi che ha bacchettato un po' la passata maggioranza e ha aperto appunto un dialogo con la nuova Regione Abruzzo. Noi offriamo la nostra collaborazione e quella del Movimento 5 Stelle sarà una collaborazione proattiva, ovviamente propositiva e faremo la nostra giusta opposizione, insomma, per difendere i diritti dei cittadini abruzzesi e per cercare di migliorare un po' le condizioni della nostra Regione, soprattutto in tema di lavoro. Speriamo di avere di fronte un'aggiunta che non si comporti come quella della passata legislatura, ma che sia un po' più aperta al dialogo e al confronto. È un'apertura, ma noi siamo sempre stati aperti. Del Movimento 5 Stelle si fa una narrazione che è sbagliata rispetto a quello che è il nostro atteggiamento. Noi siamo aperti, ovviamente, al confronto, alle proposte, a votare quello che andrà bene e farà bene all'Abruzzo e alla nostra Regione, ma a non votare a combattere contro quelle che saranno, se ci saranno, delle scelte sbagliate per l'Abruzzo. Grazie.